Buongiorno a tutti, sono Davide, Project Manager di MailApp. Andiamo ora a vedere le funzionalità inserite nella nuova release della console MailApp, la versione 8.5. Questa release è stata pressoché interamente dedicata al refactoring completo degli invi automatici. Invi automatici che erano già presenti, ma che sono stati appunto completamente rivisti. I nuovi invi automatici sono una funzionalità estremamente potente che permette di elevare le vostre attività di mail marketing, ma anche di SMS marketing, ad un livello più avanzato. Questo sostanzialmente perché? Perché ora è possibile impostare le regole di ricerca e di verifica dell'automatismo con estrema precisione, potendo scegliere giorni, ricorrenze predefinite, fasce di non disturbo e supporto di fuse orari appunto differenti. Sicuramente la grossa novità è resa dalla frequenza di attivazione. Chi conosce già la console MailApp sa che i precedenti invi automatici avevano una frequenza di attivazione giornaliera, quindi il limite minimo era il verificarsi giornaliero dell'automatismo. Con i nuovi invi automatici, presenti sulla nuova console 8.5 invece, questa frequenza di attivazione passa dalle 24 ore a 5 minuti. Sostanzialmente è possibile far girare gli automatismi, far verificare gli automatismi fino a una volta ogni 5 minuti. Gli invi automatici, ora poi vediamo bene le schermate nel dettaglio, possono essere utilizzati sostanzialmente per tre cose. O mandare automaticamente un'email, oppure mandare automaticamente non più un'email ma un messaggio sms, oppure ancora, e questa è una nuova funzionalità, segmentare i clienti automaticamente, assegnandoli ad un gruppo o spostandoli da un gruppo all'altro al verificarsi di un automatismo. Quindi non è detto necessariamente che debba partire un messaggio, email o sms, ma semplicemente che il cambio di stato, quindi il verificarsi di un automatismo, appunto vada a copiare o spostare i destinatari in un gruppo specifico, per permetterci di segmentare al meglio i nostri destinatari. Vediamo ora alcuni esempi concreti di creazione e contestualizzazione degli invi automatici. Invi automatici che ovviamente si inseriscono in pieno all'interno del pacchetto Marketing Plus e ovviamente si inseriscono grazie alla presenza e alla creazione preliminari di filtri, quindi con le regole di ricerca che permettono poi appunto la verifica dell'automatismo. Ho pensato di fare tre esempi, di contestualizzare appunto tre esempi di invi automatici su settori differenti e su tipologie di situazioni differenti. La prima tipologia che ho pensato è quella di un classico invio automatico legato al mondo e-commerce. Non farò l'esempio del carrello abbandonato, che era possibile eseguire già con i precedenti invi automatici, quindi dopo X giorni della presenza di un carrello abbandonato, ovviamente questo dato passa in console, vado ad inviare qualcosa, quindi un sollecito, ma vado ora a farvi vedere come poter creare l'automatismo che ogni 15 minuti, quindi un lasso di tempo molto corto, molto ristretto, al verificarsi della data di acquisto, in automatico invierò al mio destinatario, quindi a colui che ha effettuato l'acquisto, sostanzialmente una mail di ringraziamento per l'acquisto e magari un buono sconto da utilizzare per il prossimo acquisto. Ovviamente i nuovi invi automatici ci permettono di generare queste comunicazioni sostanzialmente in tempo reale, quindi facendo passare al limite un quarto d'ora dall'acquisto. Ovviamente questo presuppone uno scambio di dati, diciamo pressoché sincrono, tra il vostro e-commerce e la console mail app, ma questo ovviamente per le logiche di e-commerce è alla base. Prima cosa da fare è andare a creare il filtro, per questo primo invio automatico farò vedere anche la creazione del filtro, quindi vado su filtri, sarà un filtro di tipo anagrafica, perché ovviamente devo andare a cercare la data dell'ultimo acquisto, sostanzialmente, nuovo, lo metto in una categoria per comodità che vada a creare filtri e-commerce, è bene sempre racchiudere e organizzare i filtri in categoria, almeno è più semplice poter riscontrarli. Filtri e-commerce, aggiungo la categoria, perfetto. Il nome del filtro è quello mail post acquisto, e lo vado a comporre, per chi conosce la console sono magari operazioni già fatte e rifatte, le faccio vedere anche per comodità, per chi non avesse una conoscenza più così approfondita della console. Vado a comporre il mio filtro, quindi è all'interno di un campo anagrafico, dove devo cercare? Nel campo data ultimo acquisto, ovviamente l'ho rinominato io, ma è il campo in cui so che coinvoglia, che viene passata la data dell'ultimo acquisto. Cosa sto cercando? Una data, quindi il formato della mia data sarà questo. Qual è la condizione logica, qual è il filtro? La data è uguale a oggi sostanzialmente. E vado a salvare il filtro. Ora il filtro, quindi filtri e-commerce, posso andare a creare l'invio automatico. Invio automatici, nuovo invio automatico. E qui iniziano sostanzialmente le novità. Vedete come già la schermata è simile ai precedenti invi automatici, ma come è stata cambiata la skin in veste di quanto poi abbiamo rifatto a livello tecnico. Ci arriviamo, partiamo dal nome dell'invio automatico, che è appunto email post-acquisto. Posso dare una descrizione, posso abilitare o lasciare semplicemente spento l'automatismo, in questo caso posso accenderlo. Ecco i fuso orari, come vi dicevo, posso andare a impostare un fuso orario di riferimento, questa è la novità che abbiamo inserito, in questo caso va bene questo fuso orario. E poi inizio a comporre essenzialmente l'invio automatico. La frequenza di attivazione quale sarà? Prima poteva essere appunto giornaliera, non più corta, non più ristretta. Adesso invece andrò a definire la frequenza ogni, facciamo 15 minuti. 15 minuti, ovviamente so che più o meno sincronizzato c'è un passaggio di dati verso mail app, il mio e-commerce verso mail app, quindi so che comunque ogni 15 minuti andrò a raggiungere i nuovi acquisti, i nuovi acquirenti del mio e-commerce. Queste ricorrenze in questo caso giornaliera, va bene, ma l'importante è il dato che l'ho già selezionato qui. Posso volendo andare a mettere delle limitazioni, però nel nostro esempio ha poco senso inserire delle limitazioni, eventualmente posso inviare una fascia oraria di non disturbo. È vero è che se qualcuno acquista sul vostro e-commerce, faccio un esempio, alle 4 di notte, è presumibile che possa aspettarsi di ricevere delle mail transazionali di conferma, però posso tranquillamente, magari un acquirente che acquista da un altro fusilato di riferimento, andare a mettere una fascia di non disturbo, quindi una oraria di non disturbo. E ovviamente se metto una limitazione posso dire appunto quando riprovare sostanzialmente in caso di limitazione, o il prima possibile o appunto passato il periodo di limitazione. Vado a scegliere poi la condizione, in questo caso la mia condizione sarà quando è vero il filtro che ho appena creato, che si chiama appunto mail post acquisto, e vado a scegliere l'azione. Cosa dovrò inviare in automatico ai miei destinatari? In questo caso voglio inviare una mail, potrei inviare anche un sms. Questa è la mail, questo è il mittente, questo è il nome mittente, seleziono il messaggio da inviare. Il messaggio da inviare lo vado a cercare tra i messaggi che ho già creato, vediamo un attimo, grazie per l'acquisto, ecco questo è il messaggio che avevo pensato per loro, e come vi dicevo dopo l'invio del messaggio posso decidere appunto o di limitarmi all'invio oppure anche di copiare questi destinatari interessati nell'invio all'interno di un gruppo, che possono essere appunto il gruppo acquirenti, oppure di spostare i destinatari da un gruppo ad un altro, che può essere magari dai non acquirenti agli acquirenti, questo potete valutarlo voi. Creato l'automatismo lo vado a salvare. Una volta salvato vediamo appunto l'automatismo all'interno dell'elenco degli automatismi, come vedete in questo caso è acceso, posso decidere di spegnere l'automatismo, cosicché l'ho già creato, rimane lì, però non è verificato, quindi sostanzialmente è latente, non funziona. Andiamo ora a vedere una seconda tipologia di invio automatico. La seconda tipologia è slegata dal mondo e-commerce, ma è una tipica tipologia di ciclo di vita di un cliente, dal momento che si iscrive alla vostra newsletter. Ad esempio, è molto simile a quella dell'e-commerce, però è più diffuso semplicemente per l'iscrizione alla newsletter. Quello che voglio fare è questo. Dopo n minuti, facciamo 30 minuti, quindi ogni 30 minuti scusate, creo un automatismo che verifica appunto l'iscrizione degli utenti alla mia newsletter. Ovviamente c'è un campo apposito data di iscrizione. Dopo 30 minuti, quindi ogni 30 minuti, faccio sì che l'automatismo venga verificato e invio una mail di, diciamo, benvenuto alla mia newsletter, al mio portale, al mio blog, comunque al vostro mezzo di comunicazione, dove magari oltre a dare il benvenuto, invio magari una prima comunicazione gratuita al mio cliente, quindi una brochure, un pdf, un ebook, un qualcosa di significativo per iniziare a incuriosirlo, a stuzzicarlo sulle nostre attività. Anche qui il processo di creazione è molto semplice. Si parte da un filtro, il filtro che in questo caso vado veloce, non lo faccio rivedere, ma era praticamente analogo a quello che abbiamo già visto. Un filtro che va a creare appunto una ricerca su che cosa? Sul campo data di iscrizione, verifica che la data di iscrizione sia uguale ad oggi, e dopodiché va a creare un invio automatico. Invio automatico, di che tipo? Andiamo a vederlo, vediamo subito email, benvenuto al portale, l'iscrizione chiamiamola ciclo di vita, abilitato, attiva l'invio automatico ogni, anche qui vado a definire una frequenza, ogni 30 minuti, dipende, dipende quanti sono i flussi di iscrizione al vostro portale, questo ovviamente non andate a declinare, però come vedete la flessibilità è massima sostanzialmente, 30 minuti perché ho tante iscrizioni. In questo caso voglio sì una limitazione, perché so che il mio portale è in Italia esclusivamente, quindi comunque non voglio disturbare ad esempio dalle 19 alle 9, ovviamente attivo poi il prima possibile esclusa questa fascia di non disturbo. E poi vado a scegliere la mia condizione, quindi vado a selezionare il filtro per anagrafica che avrò appena creato, vado a scegliere l'azione, anche in questo caso possibilità di scegliere una mail oppure ancora un sms tra quelli che ho già creato in console, salvare il mio invio automatico e automaticamente ogni giorno, ogni 30 minuti so già che potrò raggiungere con la mail di benvenuto al portale i miei utenti. Anche qui se ho necessità potrò andare a copiare o spostare i miei utenti da un gruppo ad un altro o metterli appunto in un gruppo, proprio per avere già oltre all'invio automatico anche una segmentazione in più all'interno della console mail app. Un terzo esempio che mi viene in mente potrebbe essere quella legata all'invio della nostra newsletter, facciamo un esempio, invio la newsletter, la mia newsletter mensile è composta da una notizia principale e 4 sottanotizie dedicate a 4 prodotti differenti. Voglio verificare coloro che hanno cliccato ad esempio sulla prima delle 4 notizie in secondo piano, che era dedicata, parlo di mail app ad esempio, era dedicata al mondo sms e voglio capire appunto chi ha cliccato quella notizia e inviare in automatico dopo il loro click un messaggio dove gli invio una promozione sui costi dell'sms per cercare appunto di guidarli in un processo diciamo di vendita di questo servizio al quale hanno posto interesse. Prima cosa creare il filtro, a differenza dei due invi automatici precedenti non sarà più un filtro per anagrafica ma un filtro per attività, l'ho già creato, molto semplice, cliccatori della newsletter di febbraio, quindi sostanzialmente cosa faccio? Vado a verificare tutti coloro che hanno cliccato nel, sceglierò ovviamente newsletter di febbraio, la mia newsletter sostanzialmente, e vado a definire la url che voglio essere verificata, in questo caso questa, articolo 1, quella dedicata agli sms. Non mi resta poi che andare a effettuare che cosa? Il filtro, quindi scusate l'invio automatico. Torno sugli invi automatici, nuovo, anche qua in un processo molto analogo rispetto a quelli di prima lo vado a comporre. Frequenze di attivazione, in questo caso posso lasciare magari un lasso temporale un po' più alto, posso fare che l'invio venga verificato ogni 8 ore, comunque i tempi anche di sedimentazione della newsletter possono essere questi. Criteri di ricorrenza, va bene, giornaliero, posso dare anche qua delle limitazioni orarie per non andare a disturbare effettivamente qualcuno, però dovrei calcolarlo ovviamente quando poi ho definito il lasso temporale, quindi le 8 ore, e vado a scegliere la mia condizione. In questo caso non sarà più quando è vero il filtro per anagrafica, ma quando è vero il filtro per attività, vado a cercarlo, eccolo qua, cliccato in newsletter febbraio 2014. In questo caso poi scelgo cosa inviare, una mail, un sms, o semplicemente posso anche fare una cosa di questo tipo, voglio dire, io voglio sapere chi ha cliccato, però non voglio inviargli nulla, voglio semplicemente storicizzare il dato, quindi vado a copiare a spostare questi destinatari, che hanno appunto rispettato la condizione, e li copio ad esempio nel gruppo, che potrò aver già creato, cliccatori, newsletter del febbraio 2014, prodotto sms, così che poi questo dato potrò utilizzarlo per magari delle finalità di marketing dedicate, non è necessario che io vado a inviargli qualcosa. Quindi sostanzialmente gli invi automatici nuovi della console 8.5 di MailUp consentono appunto una possibilità di creare trigger a 360 gradi. Questa è sostanzialmente la grossa novità che abbiamo inserito. Per tutte le altre novità, ma anche magari i piccoli bug fix, piuttosto che le correzioni, vi invito a controllare il nostro changelog, ora vi faccio subito vedere dove trovarlo, per andare a controllare tutto quanto si evolve periodicamente all'interno della console MailUp. Il nostro changelog lo si trova appunto nella nostra area di manualistica online, raggiungibile indirizzo help.mailup.it nella sezione appunto dedicata al changelog. Grazie.